ecco la macchina per la foto destra ragazzi vai Ale vai via 5 euro dai dai Alessa metti 5 euro qua dentro dai se sarà da qualche parte metti 5 euro dai qui 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 metti lì qua metti lì bene metti lì bene metti lì bene metti lì bene metti bene mamma io devo che non metti 5 euro dentro ecco sono poco vai metti bene questi 5 euro l'ha messi mamma ci prende la mamma andiamo migliorando ragazzi e dai dai io uso il cellulare posso farlo io uso il cervello e dai boni boni oh stai calma da parlare della mamma 60 vai metti il cellulare fatta lei 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 seduto guarda l'altezza c'è scritto allora allora foto per documenti allora si per documenti pulsante verde ok premi verde bravo Ale e premi aspetta non è giusta l'altezza degli occhi allora ripremi il pulsante verde e premi seleziona con le frecce il prodotto desiderato e vai e vai quello solo quello seleziona dai allora denominativo in forma trattamento dei da per il pulsante confermare altrimenti premere il pulsante per per confermare altrimenti premere il pulsante ok premere il pulsante verde chiudi no metti di seduto guarda se la testa è troppo basso ri alzate e gira il seggiolino dai che per rialzarlo qua così l'abbassi giralò della alza gira 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 є seduto 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 guardate come sei messo meglio però non gira ancora gira 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 dai metti la capoccia va bene va bene dai si va bene a giro un altro po' alza un altro po' dai gira 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 ok giù 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 basta basta e basta dopo è troppo alto basta Alessandro così è giusto adesso guarda lì e fai la faccia da minchietto ok premi il pulsante te l'ha fatta no ripremi il pulsante aspetta 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 te la foto ti piace no che mi si vede a me ma no che mi si vede a me te l'ho fatta ma questa foto è allora premi tasto per stamparla no no se invece premi la freccia premi la freccia non il verde la freccia questa faccio io concentrati stai buono metti la faccia normale vai la faccia carina normale devi sembrare normale va a vedere vai 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 e dai no 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 privacy privacy e raga privacy un po' di guardare e dai dai il brigate no mi vedo non so dai 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 ok andiamo a vedere andiamo a vedere si si verde 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 no 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 stampa in corso esci esci adesso guarda adesso la foto qua dai che siamo fretta aspetta non le toccare quando è uscita quando è uscita quando è uscita non bisogna toccarla oh c'è pure lo specchio vai vedere non la metti sulla faccia si è asciugata sulla faccia no bravo carino carina dai dai andiamo andiamo saluti ciao ragazzi e vediamo al prossimo video ciao ciao